... tra quello del pomeriggio, a Claudia Lucrezio, tra l'altro ringrazio Claudia, è la Presidente uscente di Pavia, la ringrazio per il lavoro che ha fatto in questi anni, un grande lavoro e devo dire che quando, però fortunatamente non è che ci lascia a passare per testimone, ma noi non perdiamo i nostri dirigenti perché hanno dato tanto e possono dare ancora tanto, grazie. Allora, parto dalla fine, il mio ringraziamento ad Arci è molto più, diciamo, per me sicuramente più significativo e più importante, ho vissuto gli ultimi 20 anni della mia vita, cioè esattamente metà di anni che adesso, in Arci e sono cresciuta tanto e quindi è un'esperienza che mi ha segnato che assolutamente non abbandonerò, ma a voi devo tantissimo, a Ideanna prima di tutto, a te Massimo e a tutte le altre persone con cui ho condiviso questo percorso. Però, detto questo, la mia riflessione rispetto ai temi che abbiamo condiviso oggi voleva riportare l'attenzione su alcuni punti, secondo me, molto importanti per la nostra vita associativa. Quando appunto sono arrivate in Arci 20 anni fa la situazione non era, tra i dirigenti, non era sicuramente quella che stiamo vivendo adesso. Sia in termini di numeri, il motto del tesseramento di quest'anno mi piace moltissimo, dice siamo una moltitudine. Si parla di una moltitudine di soci, mentre le basi associative, un po' a causa della pandemia, ma sicuramente la pandemia ha accelerato un processo che era in atto sicuramente negli ultimi anni, hanno perso molto terreno. Questo secondo me è un tema politico fondamentale. Non si possono presidiare i territori, non si può costruire comunità dal basso se le sedi Arci diminuiscono. spesso l'aumento dei soci ci dice una cosa importante dell'attività di Arci, cioè la qualità dei servizi che Arci è in grado di mettere in atto, sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista sociale. Però uno degli aspetti fondamentali di Arci era la capillarità, la capacità di raggiungere tutti i territori, anche più lontani. Noi abbiamo un circolo, noi abbiamo circoli sulle colline, però noi abbiamo persi tantissimi. Un circolo a Barzi che è radicatissimo nel territorio, fondato da un ex partigiano, si chiama 18 Settembre. Per me quel circolo è un punto di riferimento essenziale all'Andriano, abbiamo un circolo che sta rivoluzionando piano piano la città e ha aperto sedi nei piccoli paesi che dipendono dall'Andriano. Secondo me questo è uno dei temi che a livello nazionale deve essere ripreso, cioè ritornare a presidiare i territori a pregio circoli, non potenziando il tesseramento. E basta. Poi un altro aspetto che per me è fondamentale oggi nei vari interventi che si sono susseguiti, abbiamo sentito tanto parlare ovviamente per la contingenza del momento, di ritornare a fare politica e di riportare le persone, il famoso 40% ad appassionarsi alla politica. Una delle frasi che mi è rimasta particolarmente impressa è l'astenzionismo e l'allontanarsi dalla politica attiva provoca disperazione e la disperazione provoca disagi e non. Però io mi chiedo l'Arci è un luogo di partecipazione politica e penso che questo aspetto nella sua indipendenza sia di idee, quindi anche di progettazione politica debba essere preservato. Noi siamo un'associazione grossissima che spesso viene tirata da una parte e dall'altra e invece l'aspetto di indipendenza e quindi anche di coraggio di prendere delle scelte contrarie forse anche ad alcuni nostri alleati politici a seconda dei periodi, noi questo dobbiamo tenercelo come calo. Non ci può essere nessun tipo di progettazione politica che non parta dall'educazione, questo che mi conosce lo sa, è il mio tema di fondo più importante e noi abbiamo, adesso vabbè non voglio entrare perché non abbiamo tempo e quindi devo chiudere, questo fantastico ministero dell'istruzione e del merito che fa orrore e in contemporanea sono arrivati a un sacco di soldi del PNRR per contrastare anche la dispersione educativa. Ho partecipato ad un bellissimo intervento all'Arci bellezza pochi mesi fa coordinato da Claudio Minervino sulla scuola democratica durante il quale avevamo appunto condiviso questi aspetti, che cosa significa promuovere un'educazione democratica, cosa significa come diceva il ragazzo di prima, ragionare sul diritto allo studio e sull'apertura della scuola alla società. Io credo che anche su questi temi Arci che l'associazione culturale più importante d'Italia debba interrogarsi, non che l'associazionismo entri nella scuola ma che la nostra associazione sia in grado di promuovere anche dal punto di vista politico delle proposte che scuotano la politica nazionale e poi effettivamente sull'odiosissima per esempio legge di alternanza scuola-lavoro contestata e contestabile da più punti di vista, su cui anche noi come Arci Pavia abbiamo preso tante volte tante posizioni, riuscire a formulare delle ipotesi che mettono l'associazionismo, il terzo settore, in grado di dialogare con l'istituzione scolastica sia in termini di proposta culturale che c'è propria ma anche in termini di spazi dedicati alla promozione del diritto allo studio, alla crescita, alla formazione permanente che sono effettivamente aspetti che nelle nostre città o mancano del tutto oppure sono presidiati quasi esclusivamente dagli oratori. Ecco, queste sono solo alcune delle suggestioni, sono temi che a me sono cari e che mi sento di poter condividere in questo luogo che mi è particolarmente caro, quindi vi ringrazio.